il museo civico craveri di storia naturale di bra presenta l'evoluzione geologica del braidese come si è modificato il paesaggio del nostro territorio negli ultimi sei milioni di anni uno dei luoghi dove affiorano i sedimenti più antichi del territorio braidese si trova lungo il tanaro è la spiaggia dei cristalli situata non lontano da pollenzo si tratta di stratificazioni che si sono formate sei milioni di anni fa durante la fase terminale di un piano geologico conosciuto come messiniano ultima fase dell'epoca chiamata miocene sulla sponda opposta del fiume è evidente come gli strati oggi appaiano inclinati a causa di fenomeni di sollevamento che nelle epoche successive hanno interessato l'appennino ligure e le langhe purtroppo questa inclinazione oggi crea qualche problema di stabilità a questa porzione di territorio specialmente dopo intense e prolungate piogge si possono verificare pericolose frane di scivolamento lungo il versante delle langhe che si sviluppa sulla destra orografica del tanaro il nome spiaggia dei cristalli è dovuto alla presenza di innumerevoli cristalli di gesso che in certi punti affiorano in grande quantità e che si possono osservare letteralmente sotto i nostri piedi per capire come si sono originati questi cristalli bisogna andare ancora più indietro nel tempo durante le oceane intorno a 50 milioni di anni fa a causa di movimenti della crosta terrestre il continente africano si avvicina a quello eurasiatico a quel tempo separati dal mare della tetide si chiudono così i collegamenti prima con l'oceano indiano ad est e sei milioni di anni fa con l'oceano atlantico ad ovest senza l'apporto di acqua marina il bacino va incontro ad un lento prosciugamento il territorio si trova ad una latitudine più vicina all'equatore rispetto ad oggi il clima è subtropicale e i fiumi e le piogge non riescono a compensare l'intensa evaporazione il livello del mare comincia quindi ad abbassarsi dando origine a lagune costiere e a bacini di mare isolati come sta accadendo attualmente nel mar morto in medio oriente il progressivo prosciugamento del bacino marino determina la cosiddetta crisi di salinità nel mare la concentrazione dei sali disciolti aumenta sempre di più e quando il bacino si riduce al 50% del volume iniziale cominciano a precipitare sul fondale i carbonati in particolare il calcare invece il solfato di calcio il gesso inizia a precipitare quando il mare si riduce al 20% dando origine spesso a grandi cristalli quando il bacino marino si riduce al 10% del volume precipita anche il cloruro di sodio il sale da cucina l'inizio del pliocene coincide con l'apertura dello stretto di Gibilterra viene ripristinato il collegamento con l'oceano atlantico e dopo 700.000 anni di isolamento l'acqua marina torna a riversarsi nel bacino quasi completamente prosciugato ci volerò probabilmente centinaia di anni prima che si riempisse completamente si forma così il mar Mediterraneo con la nascita del Mediterraneo ci troviamo ancora in un periodo in cui il clima della terra è più caldo rispetto al clima odierno le calotte polari sono poco estese e il livello del mare è più alto intorno a 5 milioni di anni fa il mare ricopre l'intera pianura padana ed il territorio dove oggi si trova il roero è un fondale marino posto fra un'isola che oggi è la collina di torino a nord e le langhe a sud nell'immagine che vedete viene messa a confronto la carta del golfo padano di 5 milioni di anni fa con quella del nord italia di oggi il piano zancleano è la prima fase dell'epoca pliocenica e si sviluppa tra 5,3 e 3,6 milioni di anni fa il nostro territorio si trova sotto un mare profondo lontano dalla costa dove si depositano i sedimenti più fini che i fiumi dell'arco alpino riversano nel bacino padano questi antichi fanghi solidificandosi danno origine a depositi di marne conosciuti come argille azzurre che nella foto affiorano lungo il fiume Stura di De Monte tra Cherasco e Cervere conchiglie appartenenti a vari tipi di molluschi sono tra i fossili che più frequentemente si possono trovare in questi sedimenti argillosi circa 3 milioni e 600 mila anni fa il mare diviene meno profondo a causa del progressivo sollevamento del territorio si depositano stratificazioni sabbiose tipiche di ambiente di litorale marino che oggi sono visibili nelle pareti di arenaria delle Rocche del Roero su queste pareti affiora il piano piacenziano che rappresenta la seconda fase del pliocene e si sviluppa tra 3,6 e 2,6 milioni di anni fa in questo periodo il nostro territorio si trova non lontano dalla costa in condizioni di mare poco profondo nel sito geologico di Santo Stefano Roero fra due spessi strati di sabbia affiora uno strato particolarmente ricco di conchiglie fossili queste vengono da diversi ambienti e le correnti le hanno accumulate in modo caotico in una conca sottomarina nei bassi fondali del piacenziano è vissuta anche una specie ormai estinta di sireno si tratta del Metaxiteum subapenninum l'ultimo sireno del Mediterraneo che si è estinto verso la fine di questo periodo a causa del progressivo raffreddamento del clima il cranio fossile di un esemplare è custodito presso il Museo Craveri di Storia Naturale venne trovato da Federico Craveri nel 1876 durante i lavori di sistemazione di una vigna mette in evidenza come proprio grazie all'intensa erosione a cui sono state sottoposte queste colline oggi è possibile osservare le diverse stratificazioni che si sono sovrapposte nel tempo da quelle più antiche che affiorano vicino al Tanaro a quelle via via più recenti che si incontrano man mano che si sale verso il fronte delle rocche con la fine del Pliocene inizia il periodo quaternario durante la sua prima epoca chiamata Pleistocene da 2,6 milioni di anni fa a 12.000 anni fa il clima su tutta la Terra diventa sempre più freddo le calotte polari cominciano ad espandersi su buona parte del Nord America e dell'Europa e il mare si ritira definitivamente dal nostro territorio i ghiacciai ricoprono le Alpi e arrivano a lambire la pianura padana ci troviamo nel cuore dell'epoca glaciale a causa del freddo intenso sempre meno acqua riesce a raggiungere il mare attraverso i fiumi il livello del mare continua a diminuire e l'Adriatico si ritira fin oltre al luogo dove oggi sorge la città di Ancona durante questo periodo il fiume Tanaro segue un percorso diverso da quello di oggi passa nei pressi del territorio dove oggi si trova Bra scorrendo in direzione Nord e andando a confluire con il Po poco a sud di dove oggi sorge la città di Torino se il Tanaro non avesse in seguito modificato il suo corso oggi probabilmente sarebbe il più lungo fiume d'Italia dato che il Po aveva una portata inferiore ed era quindi un affluente durante il Pleistocene il fiume Tanaro scorre placidamente attraverso la pianura poco più ad est si nota la presenza di un ampio sistema collinare originato da movimenti di sollevamento della crosta terrestre ad ovest con il continuo sollevarsi delle Alpi si solleva anche la pianura che comincia ad inclinarsi di conseguenza il corso del Tanaro si sposta più ad est andando a lambire le colline che nel frattempo vengono erose e si formano piccoli corsi d'acqua a causa dell'inclinazione del territorio i ruscelli scorrono verso est scavando valli che si trovano ad una quota più bassa rispetto al Tanaro intorno a 40.000 anni fa ancora in piena epoca glaciale i fenomeni di erosione arrivano fino alla pianura del Tanaro che a causa del sollevamento era diventata un altopiano ad un certo punto si verifica una frana e il Tanaro seguendo la maggiore pendenza viene catturato da un altro corso d'acqua e deviato in direzione est trascinando con sé anche le acque dell'ostura di De Monte il Tanaro si trasforma le sue calme acque che fino ad allora depositavano sedimenti in ampi meandri nell'altopiano improvvisamente diventano ruscellanti e il corso d'acqua acquista nuova forza erosiva forza che continua ancora ai giorni nostri Tanaro e Stura di De Monte infatti hanno approfondito la loro valle e oggi le loro acque scorrono ad una quota che si trova a ben 80 metri più in basso rispetto a quella che avevano prima della cattura è questa iscriviti al nostro canale